Per noi è importante soprattutto riavvicinare il territorio al candidato, questo è l'obiettivo centrale, quello di parlare davvero di tematiche territoriali. I programmi sono tutti belli, sono tutti convincenti quando li vedi a livello nazionale, poi a livello territoriale che cosa facciamo, qual è l'obiettivo? Ecco, l'obiettivo di chi si candida è quello di parlare di tematiche territoriali. È pronto a portare in terra romana le istanze del suo territorio, quello aretino. Bernardo Menini, 53 anni, presidente di Atam, dal 2015 presidente di AC Arezzo, nonché segretario di Forza Italia, è il candidato al Senato per la quota proporzionale nel Collegio Unico della Toscana. È terzo nel listino del partito di Silvio Berlusconi. Sempre di più le parole devono lasciare spazio ai fatti, perché poi il problema grosso in questo momento è dare la risposta vera alle domande che si pongono. Oggi c'è un problema che l'emergenza vera riguarda l'aspetto delle bollette, è vero e su questo deve essere data immediata risposta. L'idea infatti nostra era quella anche di provvedere immediatamente con un decreto vero e proprio che andasse in qualche modo a agire su determinate questioni che potevano fermare il prezzo e raggiornarlo a quello di due anni fa, perché questo era l'obiettivo centrale di Forza Italia a livello nazionale. Questa è una ripercussione anche a Rezzo, perché facendo questo avremmo dato la possibilità alle società che gestiscono l'erogazione elettrica di poter attingere a un fondo su cui gli interi paesi europei potevano far affluire denaro per creare una compensazione. Questa era un'operazione immediata, perché se noi attendiamo di fare lo scostamento di bilancio o quant'altro i tempi potevano allungarsi. Sempre di più bisogna agire immediatamente. Oggi sentiamo di avere un grande consenso attorno, il centro-destra è vincente, proprio per questo si sta accumulando una grande attenzione a cui bisogna dare risposte. Sempre di meno saranno gli slogan, sempre di più saranno le risposte. Questo è l'obiettivo che ci proponiamo come Forza Italia, cioè mandare persone, quindi io mi candido al Senato, con l'obiettivo di essere quello che dal territorio porta nell'ambito romano l'esigenza reale. L'altra sfida è quella anche di riavvicinarsi ai cittadini e di richiamarli alle urne nel prossimo 25 settembre. Questo forse è il nemico principale? Il nemico principale è del cittadino, perché non andare a votare è perdere un proprio diritto, una propria potenzialità. Quindi l'obiettivo è dire, se tu hai un problema, per esempio questione bollette, questione lavoro o quant'altro, è solo esercitando il diritto di voto che puoi manifestare il tuo volere. Se tu non vai a votare, deleghi un altro a farlo per te. Quindi l'obiettivo nostro è dire, tu sei realmente nel nostro territorio, hai la possibilità di poter incidere sul voto del 25 settembre, dai il tuo voto. Noi auspichiamo che tu lo dia a Forza Italia, che come si dice ciascuno di noi chiede il voto, in questo caso anzi, a proposito, il sistema di voto impone di votare il simbolo con la X sopra, in modo che i vari sistemi sono diversi, è bene dirlo. Però tu, indipendentemente da chi voti, vai a votare, perché non delegare ad altri una scelta per te. Grazie a tutti.